Siamo ormai alla soglia dei 400.000 iscritti e come sempre mi parte il momento Nostalgy Fag Si stava meglio quando si stava peggio Eh, quando c'era lui Quando c'era lui e noi ci avevamo 50 iscritti Era tutto più bello Qui tutto paludi E quindi siamo con l'episodio numero 3 del meglio, o il peggio, degli iNub Compilation di video datata 29 agosto 2013 Scommetto che gran parte di voi non l'ha neanche visto Più o meno 390.000 persone Che strano che non l'abbiano visto Non me lo spiego, non me ne capacito Vai, sono pronto Allora Oddio Si riparte subito Un attimo Inciso Qui noi, ricordo benissimo, avevamo più o meno 28-30.000 iscritti E il giorno in cui è stato caricato questo video I miei amici, i miei amici non sapevano che facessi video E allora loro mi fanno Ma hai un canale e non ce l'hai detto Non ci posso credere Vediamo che video fai sul tuo canale E cosa parte la compilation del peggio del nostro canale E la loro idea di me sul canale quindi è stata questa inizialmente Noi che facciamo karaoke di The Lazy Song Today I don't feel like doing anything Lasso ancora il muore da quel giorno Si anch'io Grazie a Dio Ah che bella la nostra intro quanto mi manca Il peggio degli iNub Questo l'ho fatta io Questo l'ho fatta io Questo l'ho fatta io Grafter Effect Beh ragazzi ben ritornati all'episodio numero 12 dei Mythbusters Evviva un nuovo episodio dei Mythbusters Ti stai Ti stai Per entrare nei top 10 dei video dei TF's Game Ce l'abbiamo anche fatta qualche volta Una volta tu e una volta io Camber perchè l'hai rimessa? Cosa fai in testa quando montavi quel video? Non lo so pensavo fosse divertente Don't be like picking up my phone So leave a message at the top Cos today I swear I'm not doing anything Non è cambiato niente Questo schifo uguale Attenzione NBA Ah che che imbrognavamo Io e lo scarso stavamo vincendo Quindi clicchiamo il tasto PS E facciamo crashare tutto E nei minuti di recupero Quanto ha rosicato Ropsy Il tiro sotto il moto Lo voleva nominare lo scarso E tu così? Che maglievi vince E che pelle avevi tu? Io quelli che c'ho adesso più o meno No c'avi la testa arrogantissima Due punti Ragazzi Un scarso mega emo Quanto stavamo rosicando io e Ropsy Per quella sconfitta E' durata penso due mesi il rosic Ti tiro sotto il moto Troppo sotto a chi ti vede Avevamo due punti di vantaggio Noi restavamo una tripla Ma ieri vince Ah! Uno dei primissimi unboxing Lemon Su Dish Meal Time facevamo La parodia praticamente A third lemon Onion Cipolla che vende la telecamera Cipolla che vende la telecamera Un pesone coglione Cos'è? Una mob da la modalità pig te lo ricordi? E il pig C'è un maiale in camera C'è un maiale no Nel gameplay C'è un maiale Un maiale Un maiale Un maiale Un maiale Diciamo come si chiama la modalità Maiale Pig Acronimo di posta in gioco O di maiale per chi fosse inglese Fammi una reaction in live Pig Pig Fammi una reaction Pig Oh my god Pig Che nel senso? I'm not a fucking pig in your room Oh basta Che c***o Do what you want cause a pirate is free You are a pirate Ya ya Clip geniali di Battlefield Sempre Ancora Basta sto video lo cancello C***o voi LittleBigPlanet Ragazzi No Perché Fermi tutti Molumento è solenne Ragazzi Io ho anche LittleBigPlanet 3 Per PS4 Che comprammo al tempo Perché Noi e i palermitani Abbiamo avuto l'idea di portarlo sul canale questo gioco C'è Giampi che ancora domanda Facciamo un video su LittleBigPlanet Che è troppo bello Se questo video Arriva A 15.000 like Vi portiamo Un video su LittleBigPlanet 3 Ci sta Ci sta Ma che c***o fai a picchiarmi? Io sono una panella In marzo Se vuoi saperlo Con un certo contundente Mori No Non ho toccato il Giampi No C***o mi tocca il Giampi C***o mi tocca il Giampi C***o mi tocca il Giampi Questo video era il degrado Ho vinto io Su chiamerò Sì guarda la zebra Quindi Ringrazio tutti quelli che ci ha mandato le clip Per mandarci le clip C'erano in descrizione Notare che prima era un youtuber Il quarto pure Il sesto tuttora stream E il settimo era un membro nostro Era un po' pilotata Perchè Raccoon Raiden Bob E Art9 Li conoscevamo Ma vabbè Quello non sono io Ok Non sono io quello Perché io In live per voi Prendo il mio braccio Prendo un coltello Il hashtag Lo faccio per voi Oh ragazzi Voi facciamo le cose Prima che diventino virali Lo facevo per voi BASTAAAAAA Fino a fine video la metti questa? Non ti perdonerò Comunque Fino a fine Fino a in la mia pistola di code Il mio numero 4 Toccava a te dirlo non è vero stop voglio di vederlo numero 4 toccava a te dirlo non è vero le cose tuttora sono così soltanto che queste parti le cancello ora si cancellano abbiamo alzato i nostri standard diciamola così con Gianni i fan di moment sono fatti in filtrè quale cannone usi quello di Gianni 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 ti rianimo aspetta ti rianimo mi sono ucciso ah no non sei tu quello sei proprio sei esploso e finisce così 30 secondi di outro 45 sono quelli 40 secondi di outro ormai eravamo drogati da 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 perché non uso più questa canzoncina ce l'hai ancora qualche parte devo ripescarla si devo ripescare questa canzoncina ho deciso vabbè vabbè ragazzi spero che questo tuffo nel passato vi abbia fatto sorridere perché a noi ci ha fatto imbarazzare abbastanza quanto prendetelo come uno speciale per i 400.000 iscritti fottetevi non ne facciamo altri non ce ne frega un cazzo tutti i nostri video sono speciali esatto e di fare un video più speciale del normale non ho voglia perché sono 40 gradi e fa caldo no è come la filosofia della di san valentino non è san valentino solo a 400.000 iscritti deve essere tutti i giorni san valentino ragazzi noi per voi siamo l'amante perfetto tutti i giorni dispensiamo amore non solo ai traguardi non ci crediamo neanche noi a quello che abbiamo appena detto ma giriamola così ragazzi seguiteci su twitter perché siamo attivissimi anche la e soprattutto fateci sapere se volete dei gameplay su little big planet 3 lasciando tanti bei mi piace a questo video da spawn e dal camper è tutto noi ci vediamo dove quando come cazzo ragazzi fa così tanto caldo che le telecamere si spengono anche prima si sorrisca dopo 15 minuti da telecamera è da matti beh ciao divertitevi buone estate buone vacanze e soprattutto Illuminati Crew